L'inno di Mameli, il saluto tra Jasmin Repesia e Nicola Brienza. E poi grande lavoro però, in questo caso di Sanders, c'è il recupero, lasciato il pallone per la tripla a bersaglio. E' un salto a vuoto di trento e Filippovic che va in fondo alla posizione, non c'è! O meglio, non è vincente! E allora canestro valido, poi si passa da Martin per andare da Williams, ribaltamento, piedi messi a posto da Toto Forrai che si alza per la tripla, cerca di scoperchiare il canestro da lontano, niente, 0 su 12 per la Carpeglia prosciutto e trento, con grande ordine, invece rispetta le consegne. Balla finisce a Messenet che attacca di forza, stavolta si prende lui la mano sinistra. 9-4 rimbalzi per Tyler Kane, grande rubata di Figlioi che poi decide di attaccare, no, aspetta, alla fine aspetta, ma non troppo, è un 3 contro 1, fa bene Figlioi, canestro di Delfino. Paolo Calvini, ancora Zanotti, a battere un colpo. Lavoro tra Martin e Williams e poi non si accoppia la Carpeglia prosciutto ed è un errore fatale contro Luke May. Attacco pesarese, palleggia Messenet, va a trovare la tripla, comoda di Matteo Tambone. Ancora pressione sull'attacco di Trento, Sanders in fondo, sposta la difesa, non segna ma c'è il ribalzo di Williams. Chiamata di Riffige, ecco la palla in campo, ben costruita la tripla di Borgan. Sorpresa qui, effettivamente la difesa della Carpeglia prosciutto. Gary Brown, uscire con il pallone in mano, è ottimo anche lo scarico. La tripla, piedi per terra, di Jeremy Morgan. Un giro che trova solo il ferro, corre Figlioi, Robinson con fiducia, nonostante i sei errori. Arriva il bersaglio pesante. Un'uscita di Sanders, piedi a posto e tripla! Che canestro!